Il mio nome è Andrea Gambuzera, siamo a Hydonate SRL e ti presento a una tour virtuale della scuola. Siamo nel departmento vendere, abbiamo principalmente staffe femminili, ogni persona seguisce una area particolare del mondo. Abbiamo exportato i nostri prodotti in più di 50 paesi per i distributori e le società associati negli Stati Uniti, Stati Uniti, Stati Uniti e Stati Uniti. Abbiamo utilizzato un'utilizzo di tecnologia di informazione. Abbiamo un configuratore di vendita che ci permette di fare un offerto, iniziando dalla specificità del cliente in meno di 5 minuti. Il servizio tecnico usa le nuove generazioni 3D CAD e le strumenti che ci permette di assemblare, in qualche secolo, un paio di potenza di hydraulico, iniziando dalla configurazione customizzata in un'office commerciale. Abbiamo già esperienza in compone e in design del sistema. Dobbiamo essere capito di configurare e di designare un'unità di potenza di hydraulica che operano a meno 40 in Siberia o a più 70 Degrees Celsius in Sara deserta. Qui siamo nel mechatronico, il nostro nuovo divisione. Qui siamo nel mechatronico, la nostra prima divisione. È qui che ci si trovi che si trovi un'unità di un'unità di gestione. è nata e stiamo sviluppando l'unità intelligente, l'unità smart smart, che combina sensori, PLC, elettronica e l'hydraulica in un pacco smart. Ora siamo all'entrante dell'hydraulica. Le prodotti sono senti da servizio, sono arrivati qui e sono prima inspeccati dal nostro controllo qualificato. Dopo passare il controllo, le prodotti pesanti e pesanti sono stati in un'esercizio, che sono circa 10 metri alti, mentre i modi più piccoli sono stati nei nostri prodotti automati. Le prodotti automati sono collegati direttamente al software ERP. Le parti sono collegati automaticamente, iniziando da parte dell'altra parte, accogliato dal departmental commercial. Sono collegati dall'operatore e senti alla linea di assemblamento, o sono stati collegati come componenti di loose per i nostri distributori. Abbiamo 5 tavoli lavoratori che sono stati in un'esercizio, quindi potremmo avere 5 ricordi contemporanei da l'Harehouse per rilascizare 5 ordini di cliente. Il nuovo risultato e sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo è dove proviamo tutti i prodotti prima di propostarli al mercato. Tutti i prodotti sono accogliati a diversi testi, come la testa fatica, la durata e la vita del prodotto, la pressione, la flotta, l'efficienza e l'efficienza, e le tempi extremi. Il controllo per il manifoldo centrale, che è la parte centrale dell'hidraulica, i manifoldi sono 100% testati, usando una macchina di industria dell'automotivo, che funziona per usare un'attività pressurizzata e verifichendo che la pressione del tempo sia in limite. In questo modo siamo assolutamente sicuri che ogni manifoldo non ha la porosità prima di andare alla produzione. Ora siamo nelle linee di assemblamento, dove sono assemblati i poteri prima di mandarele al cliente. La pre-assemblazione è fatta e poi i poteri riluppano su queste rai e arrivano alla unità di testa funcionali. Anche qui i poteri sono controllati 100% prima della finalità di assemblamento del tank, packaging e vendita. Abbiamo qui alcuni assemblamenti per alcuni valsi, dove non abbiamo grandi batchi di produzione, sono ancora assemblati per mano, ma in questo caso con molto precise e delicati. Questa è la nuova unità di filtrazione. In questo modo siamo assolutamente sicuro che il fluido hidraulico utilizzato per le test è sempre clean, cool e certificato. In questo modo abbiamo un risultato consistente per tutti i testi. Siamo pronti per l'industria 4.0 e tutte le nuove tecnologie chiamate come manufattura smart. Questa short virtual tour è venuta qui. Quindi vi invito a visitarci a Varedo, a vicino a Milano, molto vicino a Linate, Malpensa e Aureo Alserio Airport.